l'area ionica. Ogni qualvolta le condizioni climatiche sono più critiche, puntuali arrivano gli smottamenti e le frane. E' quanto accaduto anche stavolta, allorché la motrice del treno Siracusa Messina, con 26 passeggeri a bordo, è stata investita dai detriti staccatisi da un costone. I due macchinisti del treno sono rimasti lievemente feriti, come detto, ma l'incidente poteva assumere proporzioni ben più gravi. Lo denuncia in una nota la FIT CISL di Messina, che invita a non sottovalutare l'accaduto. Il sindacato denuncia la ciclicità degli incidenti e auspica un pronto intervento degli enti competenti affinché si possa procedere con soluzioni definitive e non finalizzate a tamponare l'emergenza. Ovviamente l'incidente ha condizionato tutto il traffico ferroviario e Trenitalia ha provveduto...